La Puglia Ciao Lori! Ancora un baurento! Ragura bolognese Ragura bolognese Ragura bolognese Ragura bolognese Paschetta per la cottura Fantastico! Cuciniamo! Cuciniamo? Sì L'acqua bolle Adesso mettiamo la pasta Sì Sì Ok, pianino Bravissimo Sì Quanto deve bollire la pasta? Ecco Sono pronte! Adesso è l'acqua fredda Allora Assembliamo la rasagna Mi aiuti Sì 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 Esatto Adesso la pisciamella Sì 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 Sì